Sì, se c'è da recriminare, magari nella partita andata, nei minuti finali abbiamo avuto due o tre occasioni per fare un punteggio più rotondo. Penso che oggi il rischio era che il Bayern facesse il Bayern vero, quello degli ultimi tempi, perché solitamente queste squadre poi quando sono spalla al muro in Champions spalla una partita e di vario tecnico si è visto, però penso che il gol del 2-0 a tempo scaduto ci abbia tolto speranza. Soprattutto dopo quello che dicevamo mancato da Ciro poco prima? Sì, poco prima abbiamo avuto l'occasione noi, però penso che quello ci abbia tolto veramente la speranza di poter lottare il passaggio di turno fino alla fine. Una questione anche di maturità mentale, oltre che di vario tecnico che naturalmente c'è, ma ci sta anche questo? La Lazio deve crescere? Ho visto differenza tecnica, una squadra con una cilindrata tecnica superiore. L'arbitraggio le è piaciuto? Sai, visto che abbiamo preso il gol del 2-0 su un calcio d'angolo al nostro favore che avrebbe concluso il primo tempo, perché mancano queste ondi e non concesso angolo per loro e abbiamo preso il gol. Quindi in quella situazione poco, come ho detto, è forse la situazione determinante della partita. Senta, questa partita inevitabilmente avrebbe favorevolmente dato una rovesciata a questo momento che la Lazio sta vivendo. Come si riparte? Ci sono tante partite di ampionato, abbiamo l'obbligo di cercare di risalire, perché possiamo fare meglio, dire, l'abbiamo fatto fino a questo momento. Abbiamo da giocare una semifinale di Opital. Il bilancio Champions alla fine è un bilancio favorevole, perché è una squadra o meno a questi livelli. Sono più le partite vinte delle partite perse nelle otto partite di Champions, quindi penso abbiamo fatto un buon percorso alla fine. Le squalifiche che sono state confermate in campionato poco prima che iniziasse questa partita hanno anche un po' condizionato le sue scelte? In parte sì, è chiaro, i difensori esterni ne rimarranno a disposizione solo due, quindi ho cercato di preservarli stasera per evitare un guai. Questa Champions, salutandola, per lei si ferma un po' sempre allo stesso punto? È un rammarico anche personale? Ma guarda, più qui, quando l'ho fatta in altre situazioni, l'obiettivo principale è il campionato.